Ciao, sono Leonora e sono qui per presentarvi StereoMood.com. StereoMood è una social web radio emozionale che suggerisce ai propri utenti cosa ascoltare in base al loro stato emozionale o alla situazione in cui sono coinvolti. Ho invitato a cena il mio ragazzo e devo trovare la colonna sonora ideale per accompagnare la serata, oppure mi sono appena svegliata e ho bisogno di trovare la carica per affrontare la giornata. Bene, mi collego al sito e troverò una tag cloud emozionale e selezionerò il tag che più si addice al mio stato d'animo e cliccando, in questo caso candlelight dinner, questa playlist partirà e farà da colonna sonora la serata romantica. La playlist possa essere ascoltata in sequenza o in modalità random, i brani possono essere condivisi attraverso i social network oppure via mail, acquistati su iTunes o Amazon e potrò comprare i concerti relativi all'artista che sto ascoltando. La riproduzione dei brani è scandita da un algoritmo che è generato dalla novità, dal gradimento degli utenti, dalla frequenza d'ascolto, dalla condivisione e dal numero dei tag che vengono assegnati. I tag vengono assegnati dagli utenti stessi che possono scegliere da quelli assegnati dal sistema oppure di nuovi. Nell'era del social network abbiamo deciso di affidarsi alla saggezza degli utenti e a questo punto siamo arrivati ad avere 50.000 canzoni taggate emozionalmente e 80 playlist emozionale per tutti i gusti con un sacco di musica di ogni genere. La musica viene da dei blog che abbiamo selezionato internazionali e la musica va dalla musica etnica alla musica jazz, dalla musica colta a quella classica. I brani possono essere inseriti dagli utenti stessi che possono essere visibili come tutti gli altri artisti mainstream che sono presenti sul sito. Ogni utente registrato ha una propria dashboard che gli permette di gestire la sua library, le playlist personali, i suoi momenti legati a un'emozione musicale, i suoi stati emozionali della settimana e gli utenti affini che hanno ascoltato la stessa musica. La nostra è una nuova classificazione musicale che permette di far fronte a tutta la quantità di mp3 presenti online. Ad oggi abbiamo 140.000 utenti registrati, 212 paesi che ci seguono, il Brasile è uno di quelli che ci segue di più e i nostri utenti hanno tra i 18 e i 34 anni. Queste sono le città che ci seguono di più, come vi avevo detto San Paolo è quella che ci segue maggiormente e stiamo creando delle playlist ad hoc per ogni città selezionando gli artisti provenienti dalle città. Siamo presenti su tutti i social network e attraverso le pagine abbiamo la possibilità di diffondere tutte le nostre novità emozionali e di capire il gradimento degli utenti. Gli sfondi di stereo mood vengono cambiati ogni due settimane attraverso un gruppo che è stato creato, dando la possibilità a giovani appassionati di fotografia, quindi se qualcuno vuole iscriversi può mandarci lo sfondo. Stiamo lavorando all'ottimizzazione del sito per il mobile e sta per uscire un'applicazione che permetterà di svegliarsi in modo energetico. In questo anno e mezzo di online siamo stati recensiti da un sacco di blog, di magazine internazionali e abbiamo partecipato a Web.0 a Bilbao arrivando a dei buoni risultati. Il nostro è un concept trasversale che ci permette di spaziare non solo nella musica ma anche nella fotografia, nel social e in un sacco di temi. Stereo mood.com permette di vivere e condividere le proprie emozioni in musica, però deve essere musica di qualità e quindi speriamo che possa piacervi una volta che l'abbiate provato. Stereo mood.com